Sempre di attualità Raffaele Cutolo, Don Raffaele per i compaesani di Ottaviano o per i poveri di Napoli che lo considerano un benefattore. Dentro dal 1963 la cella è stata la sua scuola, ha iniziato la carriera uccidendo un giovanotto che infastidiva la sua ragazza, ha messo insieme un piccolo esercito di devoti, è considerato il mandante di centinaia di esecuzioni, tra i caduti il bandito Francis Turatello al quale Pasquale Barra strapò addirittura le viscere. Pasquale Barra è uno dei pentiti che hanno accusato Enzo Tortora. Proprio ieri il Pubblico Ministero della Corte d'Appello ha chiesto per Raffaele Cutolo la conferma della condanna già pronunciata in primo grado nel procedimento contro la nuova Camorra organizzata. 13 anni di reclusione.